Ciao ragazze, oggi video visto che è una domanda che io spesso mi sono posta e a cui non sono riuscita a dare una risposta è sempre stata meglio un albero di Natale vero oppure un albero di Natale finto? Non mi sono mai documentata più di tanto su costi, su pro e contro e non mi sono mai soffermata più di tanto sull'argomento perché ero abituata ad avere in caso un albero di Natale finto mia mamma ha sempre fatto l'albero di Natale classico di plastica sintetico comunque che si riutilizza ogni anno quando io e Mauri siamo andati a convivere abbiamo dovuto acquistare il primo albero di Natale è andato Mauri da sole ed è arrivato a casa con un albero che fortunatamente era altissimo non mi interessava tanto il colore verde chiaro, verde scuro, con neve finta, senza neve, con pigne l'unica cosa che mi interessava non mi interessava fosse alto un albero di Natale che tu entri in casa e dici oh c'è l'albero di Natale e fortunatamente ha preso questo albero di Natale che è lo stesso che vedete dietro che abbiamo ancora ad oggi sono 5 anni, 5-6 anni ormai che abbiamo questo albero di Natale è il primo che abbiamo acquistato e utilizziamo sempre questo e non mi sono mai posta neanche per casa nostra di riflettere sul fatto di poter acquistare un albero di Natale finto, sì, mi ha sempre dato un'idea di essere più bello, più accogliente come atmosfera perché comunque esteticamente un pino vero è molto più bello da vedere rispetto a uno finto anche se ce ne sono molti finti che sembrano veri il profumo che ha l'albero vero in casa a livello di atmosfera natalizia mi ha sempre attirato l'idea di un albero di Natale vero anche se poi non è mai stata un'ipotesi che io ho preso in considerazione per casa mia quindi quest'anno, nonostante io ho già fatto l'albero ho deciso di valutare un po' i pro e i contro di entrambi i tipi di albero sia l'albero di Natale vero sia l'albero di Natale finto ormai io quest'anno qualsiasi cosa io abbia deciso tra aver finto mi devo tenere quello finto perché l'abbiamo già fatto ma per l'anno prossimo posso pensare di magari fare un cambiamento nella nostra abitudine natalizia e di acquistarne uno vero allora, secondo la Coldiretti che per chi non lo sapesse è la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana secondo Coldiretti sarebbe meglio acquistare un albero vero io, ignorantemente, ho sempre pensato che acquistare un albero vero fosse uno spreco uno vero, finito Natale cosa fai? cioè ogni anno ne pianti uno in giardino e alla fine cosa succede? che hai un pineto magari in un giardino di 10 metri quadrati e cosa te ne fai di tutti questi pini? li butti? può essere che magari durante le festività muoiono? non so, mi sembrava uno spreco mi sembrava più un vezzo ma uno spreco nella visione collettiva si vede l'albero di Natale di plastica come una scelta più ecologica ecologica, non ecologica uno pensa, prendo l'albero di Natale è meglio prendere un albero di Natale finto, sintetico in modo che lo prendo una volta e lo riutilizzo per tanti anni che rimane quello finché non si distrugge così non vado a intaccare quello che è la sfera degli alberi veri li lascia tranquilli al loro posto senza rovinarli fare un danno ecologico alla fauna in realtà si fa forse più danno senza forse si fa più danno acquistando questi alberi di Natale finti che vengono prodotti inquinando tantissimo riprodurre gli alberi di Natale di plastica vengono impiegate sostanze chimiche sintetiche comunque che sono dannose per l'ambiente la produzione stessa a livello industriale dell'albero di Natale produce inquinamento e il trasporto di questi stessi alberi di Natale produce un altissimo inquinamento quindi il motivo per cui sarebbe meglio un albero di Natale vero è che avere in casa un albero di Natale vero ha tantissimi vantaggi prima di tutto per produrlo non ci vuole materiale sintetico petrolio ma è semplicemente un albero naturale che oltretutto all'interno della casa produce ossigeno il pino all'interno della casa rilascia anche olio essenziali che profumano e purificano l'aria quindi all'interno di una casa con un pino vero si avrà un'ossigenazione e anche un buon profumo con l'acquisto di un vero abete oltretutto valorizziamo un'attività produttiva che dà reddito a migliaia di famiglie perché il 90% dei pini venduti per farne degli alberi natalizi sono prodotti stagionalmente da coltivazioni specializzate in questo tipo di albero migliaia di piccole aziende agricole italiane invece il 10% restante di questi abeti venduti sono senza radici vengono dalla normale pratica di potatura che viene fatta stagionalmente nelle foreste e quindi non sono abeti tagliati quando invece potevano rimanere nel loro boschetto dove stavano bene sono cime di alberi che vengono annualmente tagliate per il bene della pianta e della foresta che invece di essere buttati vengono appunto rivenduti per essere riutilizzati come alberi di natale quindi detto questo in linea di massima che l'albero di natale finto è sì più comodo ma non è vero che sia un'alternativa fatta a beneficio di un abete vero in realtà è meglio acquistare un abete vero perché questi abeti vengono da coltivazioni specializzate per la coltivazione di abeti per la vendita natalizia non vengono tagliati da foreste non vengono fatte delle deforestazioni per poter avere questi alberi di natale da mettere in casa Coldiretti ha fatto una lista di comportamenti che sarebbe bene attuare in vista dell'acquisto di un albero di natale vero la prima cosa che sarebbe bene fare sarebbe quella di acquistare qualche giorno prima l'albero per poterlo far abituare all'ambiente interno della casa prima di acquistarlo sarebbe bene scegliere già in che punto della casa metterlo in modo da poterlo prendere dalla dimensione giusta per non far soffrire l'albero evitando di prendere un albero molto grosso che magari ci sembra adatto allo spazio che abbiamo all'interno di casa nostra poi magari arriviamo a casa con questo albero e è un po' sacrificato come spazi quindi sarà un albero sofferente l'albero perfetto non esiste quindi se andiamo in un vivaio sarebbe bene evitare di cercare l'albero perfetto come quelli finti di plastica che sono perfetti per forza perché sono alberi finti non sono veri e nella realtà la perfezione non esiste quindi anche se l'albero è leggermente stortino se ha i rami non perfettamente a scaletta se ha un lato più folto e un lato un po' più spennacchiato cioè non cerchiamo la perfezione in questo povero albero di Natale che ci farà tanta compagnia in questo mese bellissimo di feste facciamogli un regalo anche noi a questo albero di Natale anche se è un po' bruttino prendiamolo in casa lo stesso perché tanto se poi lo andiamo a decorare gli diamo comunque una riempita distogliamo l'attenzione comunque dal fatto che l'albero non sia perfetto poi a perfezione no da noia non è bella una cosa perfetta infastidisce cioè sono belle le cose uniche e non perfette perché anche noi non siamo tutti perfetti nessuno è perfetto noi non siamo tutti perfetti nessuno è perfetto quindi non possiamo nemmeno pretendere di trovare un albero di Natale vero, perfetto quindi sarebbe meglio accantonare la nostra idea di perfezione dell'albero di Natale per poter acquistare seneramente con la pace negli occhi un albero di Natale vero ma non perfetto piuttosto che un albero di Natale perfetto ma finto se l'abete perde gli aghi non è vero che è vecchio è un abete come le piante perdono le foglie un abete che anche lui è una pianta perde gli aghi quindi non è un problema il fatto che perda gli aghi questo paura abete in casa nostra tanto comunque tutti i giorni una passatina sotto l'albero gliela possiamo dare all'interno di casa nostra meglio cercargli un posto che sia luminoso e fresco magari evitiamo di metterlo vicino al calorifero o in un angolino buio perché questo povero albero come altre piante che possiamo avere in casa ha bisogno di luce e di non essere attaccato a un calorifero che butta fuori 50 gradi perché questo povero albero cuoce cerchiamo di non addobbarlo troppo prima del Natale perché questo albero sarà appesantito ovviamente dalle nostre decorazioni quindi sarebbe meglio addobbarlo magari nella settimana del 25 è vero anche a me piace tantissimo avere come vedete l'albero di Natale pronto prima però il mio è finto non è vero quindi sì potreste decidere di addobbare tutta casa e di lasciare per ultimo l'albero di Natale lo tenete in casa però magari oppure mettete solo le lucine momentaneamente e non riempitelo di tutte le decorazioni che andrete a metterli per le festività in modo da appesantirlo solo per un breve periodo l'abete vero è un albero vivo quindi evitiamo di mettere la neve spray la neve finta sopra l'albero perché poverino si intossica quest'albero non si può mettere la neve finta sopra l'albero di Natale vero scusate non si può mettere la neve finta sopra un albero di Natale vero perché poverino gli facciamo del male a questo albero teniamogli sempre la terra umida teniamola controllata toccandola quando vediamo che è asciutta bagniamolo perché comunque è una pianta viva quindi ha bisogno di nutrirsi e di bere quando sono finite le festività portiamolo all'esterno perché comunque il pino è un albero che ha bisogno di fresco non è un albero che può stare in casa quindi finite le feste cerchiamo di portarlo sul balcone in giardino oppure prendiamo un abete che si possa restituire dove l'abbiamo acquistato i negozi Ikea fanno da ormai 8 forse 10 anni un'iniziativa bellissima che è quella di vendere ah un'altra cosa di cui non vi ho parlato è il costo perché allora non vi so dire perché non mi sono informata perché non mi interessava il costo di un pino di un albero di Natale che poi ci terremo quindi andare non vi vaio acquistare un albero un pino e portarlo a casa perché io non avrei interesse come vi ho detto ogni anno ad acquistare un pino nuovo e a mettermelo in casa e quindi a me interessava un'alternativa mi interessava un'alternativa comoda e valida a livello economico per avere in casa un albero di Natale vero non uno finto ma comunque che non implica il fatto che io debba riempirmi la casa di pini ogni anno quindi quello che secondo me è la soluzione ottimale è quella che viene offerta da Ikea ovvero acquistiamo presso un negozio Ikea un albero di Natale vero a soli 14,99 euro ed è un prezzo che è invariato da anni cioè non l'hanno aumentato perché ad esempio 5 anni fa era già a 14,99 euro il prezzo e oggi ancora a 14,99 euro quindi comunque è un costo minimo bassissimo io pensavo sparassero un 50 euro invece ho scoperto per mia felicità che a soli 14,99 euro possiamo prendere da Ikea un albero di Natale alto 1,40 m quindi non è per niente piccolo perché un altro dai miei dubbi era se voglio risparmiare devo prendere un albero piccolo però piccolo a me non piace invece già 1,40 m direi che è un'ottima altezza se lo volete più alto basta che lo mettete sopra un tavolino quindi in modo che lo rialzate ulteriormente finite le festività natalizie voi potete tranquillamente riportare da Ikea questo albero che avete acquistato prima delle feste Ikea vi darà un buono del valore equivalente del costo dell'albero quindi vi darà un buono di 14,99 euro da rispendere all'interno del negozio Ikea quindi praticamente voi per le festività è come se aveste a casa un albero di Natale gratuito ma vero perché il costo che è veramente basso vi verrà comunque rimborsato in buono da spendere all'interno del negozio Ikea e qualcosa da prendere all'Ikea diciamo ce lo troviamo sempre quindi non sarà un problema spendere questi 14,99 euro di buono all'interno di Ikea e questi alberi che noi riconsegniamo a Ikea verranno ripiantumati oppure utilizzati per la produzione di mobili perché i mobili di Ikea sono fatti di legno e invece di andare a tagliare altri alberi verranno utilizzati quelli che noi abbiamo addobbato per Natale e restituito oltretutto Ikea quest'anno per ogni albero di Natale restituito donerà 2 euro alla scusate voglio leggere per non sbagliarmi per ciascuno avete restituito Ikea contribuirà con 2 euro a realizzare assieme a A0CO2 un progetto di riqualificazione in aree a forte rischio di dissesto idrogeologico nel parco del pover cellese Alessandrino e nel parco nazionale delle 5 terre oltre ad avere in caso un albero vero che non emette CO2 per la produzione smaltimento e tutto il resto vi purifica a casa potete restituirlo vi rimborsano il costo totale dell'albero che avete utilizzato per le feste quindi è come se voi non l'avete mai pagato oltretutto riportandoglielo Ikea decide addirittura a spese sue di donare 2 euro per una giusta causa io direi che sono fin troppe motivazioni a favore dell'acquistare momentaneamente perché poi ve li danno il buono di scegliere un albero di Natale vero al posto di uno finto ci guadagna l'estetica l'ambiente e il portafoglio quindi direi che abbiamo riassunto in tre punti fondamentali perché sarebbe meglio un alberi vero al posto di uno finto questo è il mio personale pensiero e ragionamento ognuno fa le sue valutazioni ovviamente però questo è quello che io mi sento di consigliarvi spero che il video vi sia servito spero che sia stato interessante spero che magari vi ha chiarito qualche dubbio che anche voi come me avevate perché anch'io ho passato anni col dubbio su avete vero avete finto avete finto avete vero e io in casa non avete finto ma penso proprio che dall'anno prossimo inizierò ad acquistare un abete vero detto questo e sperando di non avervi annoiato troppo con questo video di esservi stata utile interessante vi do un bacio vi auguro una buona giornata e al prossimo video ciao ciao